In questo tutorial affronteremo studi di funzioni logaritmiche e ne andremo a determinare il dominio, l'eventuale simmetria, l'intersezione con gli assi, il segno e i limiti. Partiamo dalla seguente funzione y uguale logaritmo in base 2 di x meno 8. Iniziamo dal dominio. La condizione di esistenza relativa ad una funzione logaritmica consiste nel porre l'argomento del logaritmo, ossia x meno 8 maggiore di 0, da cui si ottiene x maggiore di 8. Questo vuol dire che il dominio della funzione sarà da 8 escluso a più infinito. Vado ora a rappresentare il dominio nel piano cartesiano, individuo il valore 8 sull'asse delle x e in corrispondenza di 8 traccio una linea verticale tratteggiata. Osservo che la funzione è definita soltanto per valori maggiori di 8. Questo vuol dire che per valori minori di 8 la funzione non esiste e allora vado a cancellare tutta la regione con x minore di 8. Studiamo ora l'eventuale simmetria della funzione. Osservo che il dominio non è simmetrico rispetto all'asse delle y. Questo vuol dire che non viene verificata la condizione necessaria. E allora la funzione non sarà né pari né dispari. Passiamo all'intersezione con gli assi e iniziamo con l'asse delle x che ha equazione y uguale 0. Questo vuol dire che per determinare le eventuali intersezioni della funzione con l'asse delle x dovrò scrivere la funzione logaritmo in base 2 di x meno 8 e porla uguale 0. Ho così un'equazione logaritmica che vado a risolvere. Tenendo presente che la base del logaritmo è 2, allora scriverò 2 elevato al logaritmo in base 2 di x meno 8 uguale 2 alla 0. In questo modo semplifico 2 con logaritmo in base 2 e a primo membro mi resta x meno 8. A secondo membro ho 2 alla 0. 2 alla 0 è pari a 1, da cui si ottiene x uguale 9. E allora vuol dire che la funzione interseca l'asse delle x nel punto di ascissa x uguale 9 e nel punto di ordinata y uguale 0. Individuo ora questo punto nel piano cartesiano. Il punto 9, 0 sarà questo qui. Passo ora all'intersezione con l'asse delle y che ha equazione x uguale 0. Questo vuol dire che nella funzione al posto delle x sostituisco 0. Vediamo quello che ottengo. y uguale logaritmo in base 2 di 0 meno 8 che è pari a meno 8. Osservo che l'argomento del logaritmo è una quantità minore di 0, quindi vuol dire che questa quantità non ha senso e allora vuol dire che non vi è alcuna intersezione con l'asse delle y. Allo stesso risultato potevo arrivarci guardando il grafico. Osservo che l'asse delle y si trova nella regione cancellata, cioè non fa parte del dominio, e quindi potevo dedurre direttamente che la funzione certamente non taglia l'asse delle y. Passo ora allo studio del segno e devo porre la funzione, ossia logaritmo in base 2 di x meno 8 maggiore di 0. Per risolvere questa disequazione logaritmica scriverò 2 elevato alla logaritmo in base 2 di x meno 8 maggiore di 2 alla 0. Semplifico 2 con logaritmo in base 2 e quello che mi rimane è x meno 8 maggiore 2 alla 0 è pari a 1, da cui si ottiene x maggiore di 9. Questo vuol dire, andando a rappresentare la disequazione, che prima di 9 la funzione è negativa, dopo di 9 è positiva. Si parla di negatività e positività sempre relativamente al dominio della funzione. Rappresento ora il segno della funzione nel grafico. In corrispondenza di 9 tiro una linea verticale continua. So che per valori minori di 9 la funzione è negativa, ossia si trova in questa regione, e quindi cancello la parte positiva. Per valori dopo di 9 la funzione è positiva, ossia si trova in questa regione, e quindi cancello la parte minore di 0. Passo all'ultimo punto, allo studio dei limiti. Iniziamo dal comportamento all'infinito. Osservo che il dominio è da 8 a più infinito, quindi l'unico limite all'infinito che devo fare è quello a più infinito. Escriverò limite di x che tende a più infinito di logaritmo in base 2 di x meno 8. Al posto della x sostituisco infinito. Infinito meno 8 è pari a infinito e logaritmo di più infinito risulta essere più infinito. Questo significa che quando la x si trova a più infinito, e quindi mi trovo molto a destra nel grafico, il valore della y esplode a più infinito e il segnetto lo faccio in alto in diagonale. Passo al comportamento puntuale. L'unico limite che devo fare, tenendo presente il dominio che da 8 a più infinito, sarà x che tende a 8 da destra, ossia 8 più. Il limite di x che tende a 8 meno non si calcola, in quanto in questa regione mi trovo al di fuori del dominio. E allora vado a scrivere limite di x che tende a 8 più di logaritmo in base 2 di x meno 8. Ora, al posto della x sostituisco 8 più ed ottengo logaritmo in base 2 di 8 più meno 8. 8 più meno 8 è una quantità un po' più grande di 0 e ottengo 0 più. Ora, logaritmo di 0 più risulta essere pari a meno infinito. Questo significa che quando mi trovo a destra di 8 il valore della y esplode a meno infinito e il segnetto lo faccio in basso, in verticale. Vediamo questo secondo esempio, y uguale logaritmo di x quadro più 7. Partiamo dal dominio. Essendo una funzione logaritmica, l'argomento del logaritmo, ossia x alla seconda più 7, deve essere imposto maggiore di 0. Visto che ho una disequazione di secondo grado, devo passare all'equazione associata x alla seconda più 7 uguale 0, portando 7 a secondo membro, ottengo x alla seconda uguale meno 7, che mi dà luogo ad un'equazione impossibile. Questo vuol dire che la parabola associata alla disequazione risulta essere sempre positiva e questo vuol dire che il dominio della funzione sarà da meno infinito a più infinito. Per quanto riguarda la rappresentazione del dominio nel piano cartesiano, in questo caso non devo fare nulla. Passiamo alla simmetria. Osservo che il dominio risulta essere simmetrico rispetto all'asse delle y, quindi vuol dire che la condizione necessaria è verificata e allora ha senso andare a studiare la parità e la disparità della funzione. Andiamo a scrivere y di x, che risulta essere uguale al logaritmo di x alla seconda più 7. Scrivo poi y di meno x, al posto della x scriverò meno x e quindi ottengo logaritmo di meno x alla seconda più 7, che risulta essere uguale a logaritmo di x alla seconda più 7. Confronto ora questa quantità con questa quantità. Osservo che sono uguali e allora concludo che la funzione risulta essere pari. Passiamo all'intersezione con gli assi e iniziamo con l'asse delle x che ha equazione y uguale 0. Questo vuol dire che devo prendere la funzione logaritmo di x alla seconda più 7 e porla uguale 0. Ho un'equazione logaritmica che devo risolvere. In questo caso la base del logaritmo, visto che non c'è scritto nulla, è 10 e allora scriverò 10 elevato 10 elevato. A primo membro posso semplificare il 10 con il logaritmo e quindi quello che mi rimane è x alla seconda più 7 uguale 10 alla 0 è pari a 1. Porto ora il 7 al secondo membro ed ottengo 1 meno 7 che è pari a meno 6. Estraendo la radice quadrata mi rendo conto che ottengo un'equazione impossibile. E allora concludo che non vi è nessuna intersezione con l'asse delle x. Passiamo ora all'asse delle y che ha equazione x uguale 0. Questo significa che nella funzione al posto della x sostituisco 0 ed ottengo y uguale logaritmo di 7. E allora vuol dire che la funzione taglia l'asse delle y nel punto di ascissa x uguale a 0 e nel punto di ordinata logaritmo di 7. Individuo ora questo punto nel piano cartesiano. Metto una tacchetta a logaritmo di 7 e 0 logaritmo di 7 risulta essere questo punto. Passiamo allo studio del segno e allora andiamo a porre la funzione logaritmo di x quadro più 7 maggiore di 0. Ho una disequazione logaritmica che vado a risolvere. Visto che la base del logaritmo è 10 allora scriverò 10 elevato 10 elevato semplificando 10 con il logaritmo e quindi quello che mi rimane è x quadro più 7 maggiore 10 alla 0 è pari a 1. Porto ora il 7 al secondo membro ottenendo x quadro maggiore di 1 meno 7 che è pari a meno 6. Ho una disequazione di secondo grado e allora passo all'equazione associata x quadro uguale meno 6. Quest'equazione risulta essere impossibile. Questo vuol dire che la parabola associata alla disequazione risulta essere sempre positiva e allora vuol dire che la funzione risulterà essere sempre maggiore di 0. Rappresento ora il segno della funzione nel piano cartesiano. Abbiamo detto che la funzione è sempre positiva e allora vado a cancellare la parte minore di 0. Passiamo all'ultimo punto, i limiti, e studiamo il comportamento all'infinito. Osservo che il dominio va da meno infinito a più infinito e allora vuol dire che devo calcolare il limite sia più infinito che a meno infinito. Iniziamo dal limite di x che tende a più infinito e poi scrivo logaritmo di x alla seconda più 7. Al posto di x sostituisco più infinito, più infinito alla seconda è più infinito, più infinito più 7 è pari a più infinito e il logaritmo di più infinito risulta essere più infinito. Questo significa che quando la funzione tende a più infinito il valore della y esplode a più infinito e il segnetto lo faccio in alto in diagonale. Calcolo ora il limite di x che tende a meno infinito di logaritmo di x alla seconda più 7. Sostituendo al posto della x meno infinito ho meno infinito alla seconda che è più infinito, più 7 ho sempre più infinito e logaritmo di più infinito risulta essere più infinito. Questo significa che quando x tende a meno infinito, ossia mi trovo qui da queste parti, il valore della y esplode a più infinito e allora il segnetto lo faccio in diagonale in alto e con questo termino il tutorial su studi di funzioni logaritmiche.